Benvenuti al primo grande appuntamento dedicato alla storia quest'anno a Palazzo Ducale, anticipazione della storia in piazza che si svolgerà dal 12 al 15 aprile. Prima del dialogo farà il professor Alessandro Barbero e il professor Franco Cardini su Fiume un breve concerto di Yahya Jones, musicista inglese e professore presso il Royal College of Music di Londra, conosciuto a livello internazionale come uno degli apprezzati e maggiori arpisti, esecutori d'arpa. Questo è il programma che ci presenterà questa sera, da 11 pezzi infantili opera 35 di Alfredo Casella, La Siciliana, Minuetto, Berseuse, di Gabrielle Forêt, di Claude Debussy, Claire Dolune, per concludere con Alfredo Casella, Cocktails Dance. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. ed è un grande piacere. Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. Poetti. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Ogni volta. Grazie a tutti. 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 a tutti.